Liste d'attesa lunghissime, carenza di personale, mancanza dell'opportunità fondamentale di diagnosi precoce. Questo denunciano le associazioni che si sono ritrovati in provincia Chieti per rappresentare le problematiche urgenti su servizi e prestazioni in materia di neuropsichiatria infantile nell'ambito dell'ASL Lanciano Vasto Chieti. In particolare si parla della struttura di attesa, punto di riferimento per i 104 comuni della provincia. Le associazioni e i genitori hanno coinvolto province e comune di Chieti, quali hanno dato la loro disponibilità. All'incontro hanno partecipato in videoconferenza diversi sindaci, Maria Elen Benedetti, associazione Asperger Abruzzo. Allora stiamo lottando come Asperger Abruzzo da tre anni per questa unità operativa di neuropsichiatria infantile. Ad oggi abbiamo ottenuto soltanto la sede ad attesa. Il punto è che l'organico non c'è. Dalla delibera regionale si prestabilisce per la neuropsichiatria un organico di 35 operatori. Abbiamo circa 500 bambini in lista d'attesa che devono urgentemente essere visti ed essere valutati. Abbiamo un organico di sei persone. Della neuropsichiatria si servono tantissime famiglie, non soltanto gli autistici, ma anche i bambini che hanno disturbi dell'apprendimento, i bambini che hanno patologie psichiatriche. Anche perché il Covid ci ha lasciato degli strascichi, che è andato a peggiorare le condizioni anche di bambini che potevano passare anche inosservati. L'incontro di oggi vuole essere apolitico ed apartitico, tiene a precisare Federico Gallucci, responsabile di Gente d'Abruzzo e Teate Magno. Mamma vuole dare voce, prosegue alle tante famiglie, alle prese con i propri figli piccoli o adolescenti fragili. Noi abbiamo preparato anche un documento nel quale noi chiediamo la istituzione di un tavolo tecnico permanente che veda riunite in un dialogo costruttivo tutti i soggetti preposti alla gestione della neuropsichiatria infantile. Con il sindaco di Chieti Ferrara il presidente della provincia Menna vuole sottolineare due punti. Le liste d'attesa troppo lunghe di questa regione, di questa provincia. L'altra vicenda importante è rafforzare gli organici. È impossibile pensare di fare servizi sanitari, neuropsichiatria infantile, senza medici, senza tecnici di riabilitazione, senza os, senza personale. Bisogna subito aprire un fascicolo, un dossier in regione e la ASD, creare una task force di lavoro, garantire che si crei quel circolo virtuoso tra comuni, provincia, ASD, regione, famiglie che possa dare risposte celili e urgenti a tutti.